Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Agoro, questo video durerà poco perché vi volevo solo presentare una cosa Comunque, questo si chiama Rufus, è un piccolo coniglietto che ho inventato io e vi volevo proporre una cosa Allora, praticamente, voi dovete scrivere nei commenti, vogliamo i fumetti oppure non vogliamo i fumetti su questo personaggio, appunto si chiama Rufus Dovete scriverlo nei commenti, vogliamo i fumetti oppure non vogliamo i fumetti Questo video è durato poco, comunque saluto Mattia che mi ha chiesto di salutarlo Saluto Mattia Notifiche Comunque Spero tanto che vi piaccia questa idea e fra poco ci saranno due annunci Ci saranno due sorprese, la prima ve la posso dire, la seconda è una sorpresa Ok, la prima è una sorpresa e la seconda praticamente ci sarà un'altra cosa a votazione di votare la intro E dovete scrivere vogliamo la prima intro oppure la seconda, lo faremo non so quando questa votazione Comunque dovete scegliere quale è la vostra intro preferita Spero che questo personaggino vi sia piaciuto e quindi mi raccomando votate E niente, al prossimo video Ciao